del giorno Reca i sensi dell'articolo 143,2 del regolamento l'audizione del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza Lamberto Giannini preliminarmente faccio presente che l'audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati secondo le modalità stabilite dall'aggiunta per il regolamento nella riunione del 4 novembre scorso in proposito ricordo che anche ai deputati collegati in videoconferenza non è consentito esporre cartelle o scritte secondo le regole ordinarie vigenti per la partecipazione alle sedute faccio inoltre presente per i deputati partecipanti da remoto la necessità che essi risultino visibili alla presidenza soprattutto nel momento in cui svolgono il loro eventuale intervento il quale deve ovviamente essere udibile la presidenza non potrà infatti dare la parola a deputati non visibili i cui interventi non siano chiaramente percepibili come anticipato nel corso dell'audizione saranno affrontate anche le tematiche oggetto delle proposte di legge 243 Fiano recante misure per la prevenzione della radicalizzazione dell'estremismo violento di matrice jihadista e 2301 Perrego di Cremnado lecante istituzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista in esame congiunto da parte della Commissione informo che la pubblicità dell'audizione sarà assicurata attraverso la web tv della Camera dei Deputati avverto che al termine dell'intervento del capo della Polizia Giannini darò la parola ai commissari che intendono svolgere considerazioni oppure domande per non più di tre minuti per ciascun intervento quindi uno per gruppo per non più di tre minuti dopo la replica del capo della Polizia qualora ci fosse tempo e ci fossero ulteriori esigenze da parte dei commissari cercheremo di svolgere un altro breve giro di interventi do la parola al capo della Polizia Giannini per la sua relazione che ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione grazie signor Presidente grazie e buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti ho accolto questo invito con grande piacere per poter sia illustrare le attività della Polizia di Stato l'operatività della Polizia di Stato sia per poi soffermarmi sulla Commissione di Inchiesta e sulle attività per la deradicalizzazione l'unica cosa che chiederò è per quello che riguarda sia la Commissione di Inchiesta che l'attività di deradicalizzazione eventualmente ci potrebbero essere dei passaggi che forse sarebbe meglio non pubblici allora vediamo sì lo farò lo farò presente che possono riguardare anche interlocuzioni con altri Paesi è solamente per questo le dotazioni del personale della Polizia di Stato allora in primis vorrei fare un accenno sul profilo generale poi andare a vedere i vari filoni di attività e di operatività della Polizia di Stato nel 2015 con un articolato pacchetto di interventi di razionalizzazione del sistema di law enforcement e di valorizzazione del personale e sono state rideterminate le dotazioni organiche di ciascuna forza di Polizia e dal gennaio del 2020 ad oggi la Polizia di Stato al netto del personale destinato ai gruppi sportivi delle fiamme oro ha assunto nei propri ruoli 2.639 unità di personale delle quali 2.458 appartengono ai ruoli ai ruoli di base e le restanti 181 alla carriera dei commissari e a quella dei commissari tecnici e dei medici della Polizia di Stato questo risultato è il frutto anche degli sforzi che sin dai primi mesi dell'emergenza epidemiologica sono stati condotti per consentire lo svolgimento dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del comparto sicurezza difesa e soccorso pubblico in condizione di sicurezza sanitaria cercando di minimizzare i rallentamenti che sono dovuti alla pandemia noi abbiamo una situazione di difficoltà nell'organico abbiamo dei pensionamenti e stiamo cercando con dei piani comunque assunzionali di far venire di colmare queste lacune o comunque di ammortizzarne gli effetti in particolare nel rispetto per questo sono state stabilite delle modalità semplificate dei concorsi nonché la definizione di prescrizioni tecnico-sanitarie da osservarsi con il decreto adottato dal Ministro della Salute il 6 luglio 2020 nel rispetto di questo nuovo quadro regolatorio sono attualmente in corso di svolgimento tre procedure concorsuale indette tra il 2018 e il maggio del 2020 in particolare due concorsi pubblici sono finalizzati all'assunzione complessivamente di 3.000 agenti 1.350 dei quali selezionati tra coloro che hanno prestato servizio volontario nelle forze armate e il cronoprogramma prevede che tali concorsi si concludano in tempo utile per assegnare i vincitori alle sedi di servizio nel 2022 abbiamo poi delle procedure di concorso interno per vice ispettori per 263 vice ispettori e un concorso che è stato bandito per altri 1.000 ispettori ci tenevo a dire questo perché è stato costante lo sforzo fatto dalla Polizia di Stato per non rimanere bloccate per i concorsi e le assunzioni durante il periodo della pandemia la rideterminazione delle dotazioni organiche della Polizia di Stato è d'altra parte uno dei fattori alla base della riorganizzazione che a partire dal 2015 ha riguardato le diverse componenti dell'amministrazione della pubblica sicurezza il processo ha interessato innanzitutto il Dipartimento della pubblica sicurezza secondo un disegno che ha puntato a rendere la struttura organizzativa più agile e moderna capace di far fronte alle esigenze di governance di un sistema chiamato a far fronte a scenari della minaccia multiforme e cangianti con rapidità quella rapidità che è propria dell'era digitale le chiavi di volta di questa riforma sono state la semplificazione della struttura dipartimentale indispensabile per rendere più raidi e fluidi i processi decisionali e l'implementazione di modelli amministrativi per assicurare una programmazione maggiormente prospettica dei processi di spesa di un budget che si attesta intorno agli 8 miliardi di euro l'anno sottolineo come le prime tappe di questo percorso abbiano riguardato proprio alcune delle strutture dipartimentali preposte alla direzione della Polizia di Stato con decreto ministeriale del 19 aprile 2017 si è provveduta ad ammodernare l'ufficio centrale ispettivo con la costituzione di una struttura deputata all'approfondimento delle notizie sul corretto funzionamento degli uffici ed a rimodellare le direzioni centrali della Polizia di Prevenzione ed Anticrimine della Polizia di Stato che coordinano l'azione info-investigativa della Polizia di Stato in materia di terrorismo eversione e criminalità comune e organizzata faccio solo un breve scenno per dire per fare un esempio del riferimento la direzione centrale della Polizia di Prevenzione che tipo di modifica ha avuto perché questo può dare uno spaccato della razio dei provvedimenti in precedenza questa direzione direzione centrale che si occupa dell'antiterrorismo e dell'attività di prevenzione informativa era basata sostanzialmente incardinata su due servizi un servizio che era di tipo informativo e faceva un'attività informativa la gestione dell'ufficio il personale l'archivio ed altro e un altro servizio che era quello antiterrorismo che si occupava genericamente dell'antiterrorismo a nostro avviso all'epoca io ero il direttore della polizia anzi il capo del servizio antiterrorismo e parlandone con l'allora capo della polizia pro tempore il prefetto Gabrielli quel tipo di struttura non era performante per quello che stava accadendo vale a dire noi avevamo bisogno di articolarci diversamente per più motivi non si poteva più tenere informato con una rapida evoluzione del terrorismo soprattutto quello del Daesh dell'autoprogrammato stato islamico il settore delle informazioni generiche anche nell'ambiente delle moschee o in quegli ambienti non poteva essere separato dall'attività antiterrorismo quindi sono stati istituiti due servizi che riguardavano l'eversione e l'antiterrorismo di matrice interna e l'eversione e l'antiterrorismo di matrice internazionale e in più un terzo servizio che era quello affari generali dove c'era una novità si era costituita una divisione strettamente operativa perché fino allora storicamente il problema del terrorismo noi lo abbiamo avuto da Napoli in su anche negli anni di piombo era stato molto limitato quello che era successo nel sud per cui le digos erano operavano essenzialmente in attività per reati contro la pubblica amministrazione attività di ordine pubblico ed alta chiaramente a rendere performanti tutte le digos del sud Italia rispetto a una minaccia che adesso era completamente mutata perché abbiamo fatto operazioni importanti di antiterrorismo internazionale in tutto il sud Italia quindi è venuta meno questa divisione territoriale si è pensato di costituire un forte gruppo di lavoro al centro che lì dove si presentasse l'esigenza potesse far inviare del personale specializzato di intercettazioni impedinamenti e in altre attività e questo ci ha consentito implementando gli uffici territoriali a fare rilevanti operazioni antiterrorismo a Brindisi a Taranto a Cosenza a Catanzaro in Sicilia dove tra i migranti abbiamo trovato anche persone dell'Isis e quindi era solo per farvi questo accenno che tutta questa rimodulazione io dirò quelle che sono state fatte non hanno seguito un ognuno con le proprie competenze io parlo per la polizia di prevenzione non hanno seguito un mero criterio di riorganizzare gli uffici stabilire dei posti funzioni no ma sono state tutte improntate a specifiche esigenze operative perché era tantissimi anni che vigeva una precedente organizzazione quindi l'esigenza di rendere performante dal punto di vista operativo per le nuove esigenze il successivo provvedimento del 18 maggio 2018 ha ridisegnato anche l'assetto del servizio polizia postale comunicazioni adeguandolo alle nuove attribuzioni adesso demandate in qualità di organo centrale del ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità delle telecomunicazioni soprattutto in tema di tutela delle infrastrutture critiche informatizzate e dal contrasto all'uso del web da parte di gruppi e sodalizi terroristici la riorganizzazione delle altre strutture dipartimentali è avvenuta poi con decreto del febbraio 2020 la cui attuazione sta per essere ultimata nei prossimi giorni con i necessari interventi amministrativi e logistici atti a garantire la funzionalità degli uffici mi limito a ricordare per quanto concerne le funzioni di amministrazione e direzione della polizia di stato che l'elemento di maggiore novità è rappresentato dalla nuova direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della polizia di stato la struttura divenuta operativa dal febbraio scorso riunisce le competenze in materia di ordinamento e gestione giuridica e amministrativa del personale di coordinamento dell'attività formativa e di organizzazione degli uffici della polizia di stato garantendo una visione d'insieme sulle diverse questioni di natura ordinativa lo schema disegnato dal decreto del 6 febbraio 2020 conoscerà un'importante integrazione non appena sarà completato l'IDR già in corso del regolamento destinato a dare attuazione all'articolo 240 del decreto legge numero 34 del 2020 che prevede l'istituzione in seno al dipartimento di una nuova direzione centrale anche qui l'attenzione sul passo di quei tempi competente in materia di prevenzione e tutela informatica e cibernetica noi sostanzialmente abbiamo all'ambito delle specialità la polizia postale che è una delle strutture che ha subito la maggiore trasformazione fino a qualche anno fa si andava dalla scorta ai valori al controllo degli uffici postali adesso è protagonista della cyber security e in tutta una serie di odiosi e reati che sono sul web che come vi dirò sono profondamente aumentati ed è stato deciso quindi di creare una direzione un polo tecnologico con altissime professionalità dove venga riunita sia la polizia postale che la polizia scientifica che sarà un polo specialistico e che sarà destinato praticamente anche a sostenere le attività di tutte le altre articolazioni della polizia di stato per quello che riguarda le indagini investigative di particolare complessità e che richiedono queste attività di carattere tecnico il progetto messo a punto infatti configura questa articolazione come il polo unico di riferimento della polizia di stato delle attività anche forenze a contenuto scientifico e tecnologico rafforzando tra l'altro la capacità di operare per la tutela del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica istituito dal decreto legge 105 del 2019 alla riforma del dipartimento corrisponde un ampio progetto di rivisitazione del comparto periferico della polizia di stato sviluppato a partire dal 2017 con l'obiettivo di rendere più incisiva la sua capacità di risposta alle esigenze di sicurezza di ciascun territorio adeguando anche la distribuzione delle dotazioni organiche alla luce dei nuovi volumi di cui ho fatto scenno poco fa su questo versante che ha già visto il varo di alcune misure di riorganizzazione riguardante taluni reparti delle specialità della polizia di stato mi limito a ricordare come in attuazione di precise disposizioni legislative si erano già divenute operative nel 2018 e nel 2019 le nuove questure di Fermo e di Monza Brianza ed è alle battute conclusive il percorso che porterà all'attivazione della questura della provincia di Barletta Andrea Trani Batt entro la fine di maggio infatti saranno completati i lavori logistici e poi contiamo prima dell'inizio dell'estate di aprire questa nuova questura in un terreno molto sensibile per evidenti ragioni e sempre con riguardo alla ridislocazione sul territorio desidero ricordare come in attuazione della direttiva del 15 agosto 2017 in tema di comparti di specialità e di razionalizzazione dei presidi il ministro dell'interno abbia approvato il 15 gennaio scorso la pianificazione presidiaria delle forze di polizia per il 2021 per la polizia di stato tale atto prevede tra l'altro l'istituzione di 5 commissariati di pubblica sicurezza di cui uno nella provincia di Latina e 4 a Roma con la fusione sempre nella capitale di 2 commissariati con altri due tali interventi sono destinati a costituire il prodromo della riforma dell'intero comparto territoriale della polizia di stato preannunciata dal dpr 171 del 2019 che ha introdotto una serie di rilevanti aggiornamenti in materia il progetto di cui si vanno definendo gli ultimi dettagli punta a commisurare la struttura e la capacità degli uffici competenti alla prevenzione generale dei reati e di quelli a vocazione info-investigativa sulla base degli indici di criminalità e sulle caratteristiche storiche economiche e sociali di ciascun territorio l'intento è quello di mettere le diverse strutture della polizia di stato in condizione di intercettare il cambiamento e l'evoluzione della minaccia a livello di ciascuna specifica realtà territoriale completo questa rassegna con un focus sulle attività che si stanno sviluppando per rendere sempre più performante l'azione operativa delle articolazioni della polizia di stato con alcuni brevicenni alle tematiche della logistica e dell'ammodernamento tecnologico mi riferisco innanzitutto all'iniziativa che vengono condotte sul piano del miglioramento delle sedi che ospitano gli uffici della polizia di stato la strategia perseguita dal dipartimento della pubblica sicurezza mira a realizzare un contenimento della spesa attraverso la razionalizzazione degli spazi la rinegoziazione dei contratti e l'utilizzazione di edifici demaniali e di quelli confiscati alla criminalità organizzata a queste misure si aggiunge anche in una logica di riduzione degli impatti ambientali lo sviluppo di progetti che puntano all'efficientamento energetico e alla riduzione del rischio sismico su quest'ultimo versante è stato avviato un progetto volto all'esecuzione di audit sismici ed energetici e di rilievi tridimensionali di circa cento sedi inoltre sulla base di un accordo stipulato dalla presidenza del consiglio dei ministri e il ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono previsti interventi presso altri quattro edifici per un importo di 4 milioni di euro circa del resto gli interventi di miglioramento sismico costituiscono uno degli obiettivi indicati da leggi finanziarie per il 2017 e per il 2019 che hanno finanziato interventi riguardanti le sedi di 18 questure le attività volte alla realizzazione di tali opere sono attualmente in corso unitamente a quelle dirette a portare a termine una serie di progettualità che spaziano dalla ristrutturazione di alcuni sedi all'edificazione di nuovi centri polifunzionali della Polizia di Stato con l'impiego di risorse che superano il miliardo di euro stanziate dalle leggi di bilancio per gli anni 2017 2018 e 2019 sul versante della motorizzazione grazie anche agli stanziamenti conferiti ed impiegati nel 2020 pari a 50 milioni di euro sono stati avviati i programmi volti a rinnovare il parco vetture anche attraverso un più diffuso ricorso ai contratti di noleggio che permettono l'acquisizione di un maggior numero di veicoli con un basso impatto finanziario sul breve periodo preciso che attualmente i veicoli acquisiti dall'amministrazione con la formula del noleggio sono 2840 aggiungo che in questo contesto il dipartimento della pubblica sicurezza sta sviluppando anche una mirata attività di analisi volta a verificare la possibilità di impiegare per le esigenze di istituto e di compreso il controllo del territorio veicoli a trazione elettrica o ibrida ciò in una logica attenta alla riduzione dell'inquinamento acustico e ambientale è finalizzata a mettere a disposizione del personale automezzi che garantiscano un migliore comfort concludo questa panoramica ricordando che attualmente in via di implementazione una serie di sistemi e soluzioni tecnologiche destinati a essere impiegati nelle attività di controllo sul territorio svolte dagli uffici e dai reparti della polizia di stato e di front end con il cittadino mi riferisco tra gli altri al sistema Giove finalizzata a ridurre i tempi di ricezione delle denunce e a migliorare l'analisi dei fenomeni di criminalità diffusa in particolare di quella seriale e al sistema Marte destinata a innalzare il livello di strumentazione tecnologiche delle pattuglie delle questure e dei reparti di prevenzione e crimine impegnati nel controllo del territorio nel corso di quest'anno 1655 vetture della polizia di stato saranno dotate del sistema multimediale Mercurio che permette agli operatori di comunicare più velocemente con le sale operative e di effettuare l'interrogazione alla contestuale lettura non solo del CED ma anche del sistema centralizzato nazionale di Targhe e Franzi durante quest'anno inoltre saranno distribuiti al personale della polizia di stato addetto ai compiti di primo intervento e delle sale operative mille dispositivi multimediali cosiddetti scudo finalizzato a supportare le attività operative contro la violenza di genere questa è un'applicazione che permette per esempio a una pattuglia che interviene di avere subito una visione parlo una donna picchiata o molestata immediatamente un quadro della situazione su eventuali precedenti eventuali attività e anche perché spesso e volentieri cosa accade e episodi di violenza di questo genere vanno in escalation si interviene per una lite poi entrambe le parti fanno rinuncia a qualsiasi tipo di querela che può essere fatta entro 90 giorni però poi magari arriva un'ulteriore chiamata al 112 che viene sviluppato viene mandata ai carabinieri o altra forza di polizia e questo permette subito di vedere di che cosa si tratta e quindi avere un quadro più generale della situazione che mette chiaramente il personale in grado di operare meglio e di dare maggiore tutela alle vittime di questi reati permettetemi ancora di dedicare una notazione di riscontro al sempre più positivo contenuto dell'app Youpol gestita dalla direzione centrale anticrime e dalla polizia di stato che consente ai cittadini segnalare i casi di violenza domestica bullismo e spaccio di stupefacenti lo scorso anno anche a causa dell'emergenza epidemiologica attraverso questa app sono state effettuate 32.694 segnalazioni quasi il 100% in più rispetto al 2019 per quanto riguarda la prevenzione generale dei reati e il controllo del territorio fornirò adesso alcuni dati con queste dotazioni e assetti organizzativi la polizia di stato è chiamata a gestire l'ordine e la sicurezza pubblica in una situazione che appare suscettibile di evoluzioni accelerate anche per effetto dei cambiamenti indotti dalla pandemia come ho avuto modo di illustrare nella mia audizione innanzi alla commissione parlamentare antimafia le statistiche più recenti confermano il progressivo decremento del numero dei delitti iniziato nel 2014 il trend è divenuto più marcato nel 2020 con una riduzione del 18,5% rispetto al 2019 ascrivibile anche alle restrizioni alla mobilità connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria un andamento che sta proseguendo anche durante quest'anno i dati più aggiornati raccolti nell'imminenza di questa audizione evidenziano come nel primo semestre i delitti siano diminuiti del 15,7% rispetto all'omologo periodo del 2020 le statistiche ci restituiscono una mappa in cui la media nazionale dei delitti è pari a 3.885 episodi ogni 100.000 abitanti con un decremento nel 2020 delle principali fattispecie di criminalità diffuse come i furti scesi del 39,9% i danneggiamenti del 14% le rapine del 30,8% i reati di litigiosità violenta del 12,9% e i reati in materia di stupefacenti del 15,3% anche in questo quadro di generale positività gli uffici preposti al controllo del territorio non trascurano di intensificare i controlli straordinari nei quartieri più esposti alla criminalità e di affinare costantemente i metodi del contrasto dei fenomeni più incidenti mi riferisco ad esempio allo spaccio da strada gestito spesso per conto di organizzazioni criminali strutturate da gruppi delinquenziali tra i quali stanno emergendo anche formazioni composte da giovani e minorenni quali le Pandillas o Mara che vedono coinvolti adolescenti di nazionalità sudamericane soprattutto nelle città del nord Italia e le bande giovanili dell'area napoletana in particolare le squadre mobili hanno messo a punto nuove modalità investigative che valorizzano la possibilità riconosciuta agli operatori polizia dalle nuove normative anche per attività sotto copertura la ripetizione di questo meccanismo consente di acquisire solidi elementi probatori nei confronti di più persone in termini brevi ossia si fanno delle attività investigative più complesse sicuramente ma che consentono di fare un numero maggiore di interventi anche con provvedimenti custodiali da parte dell'autorità giudiziaria perché non si va più all'arresto in flagranza del soggetto che magari sta spacciato una piccola dose ma si cerca di ricostruire l'organizzazione e quindi di poter fare un'attività più efficace a ciò si affiancano le iniziative che fanno leva sul potere del questore di disporre a norma del decreto 14 del 2017 il divieto di accesso ai locali pubblici o aperti al pubblico nei confronti di soggetti condannati per reati di droga la devianza minorile non si manifesta unicamente nelle forme dei reati predatori o del piccolo spaccio durante il primo lockdown si è registrato un numero crescente di episodi di conflittualità tra giovani che sono culminati in comportamenti antisociali commessi soprattutto nelle aree della movida si tratta di azioni che spesso hanno creato allarme sociale ma sono rimaste prive di rilevanza penale in un numero significativo di casi tali comportamenti però si sono concretizzati in vere e proprie aggressioni ai danni di vittime vulnerabili o in appuntamenti per scontri tra bande rivali le indagini svolte hanno consentito di individuare i responsabili in soggetti di giovane e giovanissime età con alle spalle un passato di profondo disagio sociale che utilizzano il web per lanciare messaggi di odio ed attivarsi al fine di commettere violenze il cui unico scopo è la sopraffazione in se stessa l'azione di prevenzione generale dei reati sviluppata dalle questure dai commissariati con il supporto dei reparti prevenzione crimine si giova ad oggi di una serie di buone prassi che dopo una positiva sperimentazione in alcune realtà urbane vengono gradualmente estese all'intero territorio nazionale ricordo qualcuna l'introduzione del modulo di azione start and stop che rispetto ai servizi di carattere itinerante privilegia il posizionamento di unità fisse presso obiettivi di carattere economico o commerciale innalzando in tal modo il livello di visibilità o deterrenza l'impiego di pattuglie che si muovono a piedi o in bicicletta rivelatosi particolarmente efficace in alcuni peculiari contesti cittadini la pianificazione dei servizi sulla base anche di un più esteso ricorso agli strumenti di georeferenziazione dei reati quindi facciamo un'attività di analisi per vedere dove vengono commessi i reati e sulla base di questo vengono modulati gli specifici servizi l'attivazione di una serie di iniziative di prossimità rivolte alle fasce deboli della popolazione un esempio per tutti quella degli anziani che sono frequentemente vittima dei reati di truffe truffe complessivamente nel 2020 la rete delle questure e dei commissariati ha impiegato nelle attività di controllo del territorio e di prevenzione generale dei reati 17.494 unità delle dipendenti articolazioni a cui si è aggiunto il supporto assicurato da 1.508 unità dei reparti prevenzione crimine e sempre per fornire una dimensione del volume dell'attività svolta segnalo che nel periodo maggiormente segnato dalla pandemia cioè dall'aprile 2020 al 31 marzo di quest'anno sono stati controllati 5.591 280 persone e 2.731 339 veicoli cioè il 29 e il 35 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2019 e 2020 aggiungo che un importante contributo alla prevenzione generale dei reati è garantito dall'azione di controllo svolta dalle questure nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa e di sicurezza su una serie di attività di privati suscettibili di ricadute per l'ordine della sicurezza pubblica nel corso del 2020 tale azione si è tradotta nello svolgimento di oltre 21.000 controlli sui detentori di armi esplosivi culminati in 360 segnalazioni all'autorità giudiziaria per violazione varia e nell'esecuzione di 3.217 ritiri cautelari di armi esplosivi in attesa delle determinazioni dell'autorità prefettizia a ciò si sono aggiunti 4.739 controlli sugli esercizi in cui è possibile accedere al gioco lecito con l'effettuazione dei 112 deferimenti alla magistratura nonché 1.642 verifiche in materia di commercio e fabbricazione di preziosi con diverse denunce l'attività a tutela dell'ordine pubblico vorrei anche qui fornire alcuni ragguagli che possono essere utili a restituire la dimensione dell'attività svolta dalla polizia di stato per la tutela dell'ordine pubblico su questo versante l'insorgere dell'emergenza sanitaria ha reso necessario attuare mirati servizi di controllo del rispetto delle misure di contenimento del virus che solo nello scorso mese di aprile ha visto impiegato un contingente di operatori della polizia di stato che ha oscillato in media tra le 48.000 e le 29.000 unità settimanali tali compiti si sono aggiunti ad altri fonti di perdurante impegno mi limito a ricordare che lo scorso anno i servizi connessi al fenomeno migratorio hanno rinchiesto l'impiego di 173.914 unità di rinforzo di personale della polizia di stato quelli attuati in relazione alla mobilitazione del movimento notab in val di susa di quasi 40.000 operatori delle parti mobili mentre per le consultazioni amministrative referendarie si è reso necessario di spiegare 18.295 unità di personale per la vigilanza ai seggi sempre nel 2020 si sono svolte 11.378 manifestazioni di rilievo il 18.5% delle quali era correlato all'azione dei provvedimenti anti-covid e per la loro gestione si è reso necessario inviare in aggiunta ai dispositivi già presenti sul territorio complessivamente 1.11.293 unità di rinforzo delle forze di polizia il 53.6% delle quali è stato espresso dalla polizia di stato si tratta di un livello di impegno che prosegue anche quest'anno con ritmi crescenti nel primo quadrimestre si sono svolte 5.125 manifestazioni di rilievo il 32% delle quali è stato correlato alle misure di contenimento del virus con un impegno che per la sola polizia di stato è stato pari a 168.945 oppositori ora però voglio dire che abbiamo questi numeri particolarmente severi abbiamo visto le ultime tensioni con il movimento io apro c'è stata qualche degenerazione però al di là di queste dinamiche che vanno seguite con la massima attenzione c'è da tenere presente che di tutte queste manifestazioni nel 2020 solamente il 2,9% sono state caratterizzate da qualche criticità anche marginale e nel primo quadrimestre di quest'anno solamente il 2,8% questo lo considero un risultato particolarmente significativo di cui volevo farvene parte anche perché l'attenzione mediatica come tutti voi sapete si concentra lì dove c'è la criticità in realtà c'è anche un lavoro enorme fatto giorno per giorno silenziosamente e poi va tutto bene non è però così scontato un altro versante di particolare impegno è quello sviluppato per garantire il regolare svolgimento delle competizioni calcistiche chiaramente le misure di contenimento hanno determinato una marcata riduzione dei fenomeni di violenza sportiva comunque c'è da tenere presente che dal monitoraggio sviluppato dalla Digos ci sono 413 club di tifo organizzato 92 dei quali connotati da posizioni ideologiche radicali e qui ci sono state alcune criticità per una posizione contro le partite a porte chiuse ritenute una sorta al di là di dittatura sanitaria ma anche una sorta di strategia finalizzata a allontanare il pubblico allontanare gli ultras dagli stati per tutelare solamente i diritti televisivi questa è la impostazione che è stata data da queste componenti ultras in questo contesto nel corso del 2020 e nel primo quadrimestre di quest'anno sono stati attuati mirati servizi per garantire lo svolgimento di 2860 incontri delle varie serie incontri di calcio cui la polizia di stato ha contribuito con quasi 76.000 unità concludo questa rassegna ricordando che attualmente le forze di polizia assicurano la vigilanza di 27.567 obiettivi sensibili i quali 337 sono sorvegliati in forma fissa con un impegno di 636 poliziotti è evidente che 636 poliziotti stiamo parlando di 636 poliziotti per turno quindi per una giornata essendoci 4 turni di servizio e 1 di riposo questa cifra va moltiplicata per 5 il contrasto al crimine online e la protezione cibernetica un dato in controtendenza rispetto al generale andamento della delittuosità e quello dei reati attraverso il web che sono commessi attraverso il web a cominciare dal numero complessivo degli episodi di frode informatica costituito cresciuto secondo le statistiche più aggiornate del 14,8% la diffusione della pandemia ha in effetti ampliato le opportunità per i sodalizi criminali di effettuare attacchi i cui bersagli non sono solo i soggetti del circuito fidanzario e del settore dei servizi pubblici essenziali ma anche le strutture del sistema sanitario peraltro l'analisi degli episodi mette in luce come gli autori degli attacchi siano dotati di un notevole expertise tecnico e siano caratterizzati da un profilo criminale prevalentemente improntato al conseguimento di profitti illeciti piuttosto che a quello ispirato a condotte ideologicamente orientate i dati raccolti dal centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche KNIPIC del servizio polizia postale delle comunicazioni documenta come il 2020 abbia fatto segnalare rispetto al 2019 una forte crescita degli attacchi rilevati passati da 147 a 509 la casistica registrata e articolata si va da attacchi ai danni di strutture sanitarie impegnate nella cura di pazienti covid preordinati a ottenere il riscatto in cambio di un presunto ripristino dell'operatività dei dati sanitari resi temporaneamente inutilizzabili ai tentativi di acquisire indebitamente informazioni riservate sullo stato della pandemia e sulla messa appunto di vaccini e terapie quanto alle frodi le tecniche più utilizzate non si limitano al traduzionale phishing ma evidenziano ricorse a metodologie più subdole che puntano al procacciamento illecito dei codici e delle password di accesso o al tentativo di sostituirsi a una figura menageriale di un'impresa a scopi truffaldini cosiddetta CEO fraud i CEO fraud registrati sono stati 64 ai fronti di 39 del 2019 non sono comunque solo le imprese e gli obiettivi prescelti dalla delinquenza online i sodalizi criminali hanno infatti colto le opportunità efferte dal massivo utilizzo della rete che connota l'attuale momento di emergenza sanitaria per perpetrare truffe e distorsioni spesso a sfondo sentimentale o sessuale sfruttando la diffusione e la fragilità delle vittime individuate le indagini dalla polizia postale dicono che tali azioni illecite sono particolarmente a tali azioni illecite siano particolarmente dediti gruppi delinquenziali originali di paesi africani quali la Nigeria la Costa d'Avoro il Benin e il Burkina Faso Alcune recenti acquisizioni indicano che taluni sudalizi hanno sviluppato anche capacità che consentono di veicolare i proventi dei delitti commessi ricorrendo a trasferimenti di criptovalute realizzati attraverso sistemi asset che mirano a garantire l'anonimato delle transazioni è un fenomeno che viene attentamente monitorato dalla polizia postale anche pensando che questi modusi di trasferimento di criptovalute possono essere utilizzate per attività di reciclaggio o di occultamento di denari la specialità ha intensificato l'azione di contrasto che ha portato già nel 2020 a un sensibile incremento delle persone indagate per gli attacchi informatici realizzati quindi un aumento del 78% 105 persone individuate rispetto a 59 dell'anno precedente e anche nel primo trimestre di quest'anno c'è un aumento molto sensibile per quanto riguarda lo specifico versante delle frodi online occorre ricordare come l'incessante azione sviluppata dalla specialità abbia permesso di deferire l'autorità giudiziaria 576 soggetti nel 2020 con un incremento del 16,36% rispetto al 2019 e altri 215 solo nel primo trimestre di quest'anno con un incremento dell'83% rispetto rispetto allo scorso anno nello stesso periodo e sempre in questo contesto va ricordato come il servizio polizia postale delle comunicazioni grazie alla partecipazione a piattaforme di cooperazione internazionale abbia recuperato durante il 2020 più di 20 milioni di euro provento di truffe informatiche con un incremento di oltre il 10% rispetto all'anno precedente anche alla luce di questi risultati può essere letto il dato che documenta come l'entità del denaro movimentato dalle frodi informatiche abbia fatto registrare nei primi tre mesi di quest'anno una diminuzione del 74,2% in rapporto allo stesso periodo del 2020 durante il quale questi valori avevano conosciuto un significativo picco lo scorso anno ha anche segnato un marcato incremento dei reati online perpetrati ai danni di minori sia la pedopornografia un più 132% sia quelli legati alla vittimizzazione dei minorenni attraverso adescamento truffe online estorsione a sfondo sessuale e cyberbullismo questo fenomeno è stato chiaramente favorito dal massiccio utilizzo durante il lockdown degli strumenti informatici da parte dei ragazzi e da questo punto di vista voglio dire che l'attività della polizia postale si è evoluta si è evoluta sia con elementi sotto copertura ma anche con una sorta di pattugliamento virtuale del web per andare a intercettare precocemente tutte quelle situazioni che appaiono fuori ere di pericoli e poter e poter intervenire tempestivamente mi scusi se la interrompo un attimo solo per dire che dato il nostro tempo a disposizione gli argomenti che lei sta trattando ovviamente sono tutti delicatissimi e molto importanti però abbiamo due strade davanti a noi o procediamo con la vettura integrale della relazione e poi ci rivediamo con un secondo appuntamento per le domande oppure diciamo dobbiamo andare con una notte un po' più veloce per permettere almeno un giro di domande guardate eventualmente possiamo se voi ritenete siccome c'era anche un segno di interesse sulla radicalizzazione e sulla possibile istituzione come se potrei fare quei scenni poi sono a vostra disposizione per le domande che potrò allora per quanto riguarda il discorso della deradicalizzazione allora io fui udito nella scorsa legislatura in questa commissione per quello che riguarda la possibile per la legge che istituiva delle delle competenze in particolare di radicalizzazione ecco io ritengo che questo sia utile possa essere molto utile però ritengo doveroso sottolineare l'attenzione su alcuni punti in particolare uno si può avviare un'attività del genere ma bisogna tenere anche presente delle esperienze che nel frattempo si sono verificate in Europa dove già ci sono state delle analoghe attività di questo genere ahimè non tutte e non sempre si sono rivelate positive ma in alcuni casi anche drammaticamente negative perché ci sono stati gravissimi attentati perpetrati da soggetti che partecipavano a questi che partecipavano a queste attività di deradicalizzazione quello che a mio avviso è di fondamentale importanza è che questa attività di deradicalizzazione sia un'attività multiagenzia vale a dire non si può pensare che questa problematica così importante e così grave sia una problematica tra virgolette di polizia o delle forze di polizia in realtà lo potrà essere per certi versi per delle attività di controllo sicuramente ma bisogna nella maniera più assoluta che ci siano diversi attori e mi riferisco in particolare all'istruzione alla pubblica istruzione alla sanità ai servizi sociali alle entità territoriali e che possano fare una rete di controlli piuttosto definita e attivare questi programmi faccio anche presente che noi non abbiamo avuto dei rientri massicci al momento dal teatro di combattimento di elementi di foreign fighter e loro familiari abbiamo sostanzialmente è rientrata una signora con con dei bambini e e sono rientrati e sono rientrati altri due foreign fighter che sono entrambi detenuti di cui mi sono occupato durante l'attività della polizia di prevenzione abbiamo spesso trovato durante le indagini dei fenomeni di grande fascinazione e di radicalizzazione che veniva effettuata sul web però il fenomeno non ha dimensioni straordinarie questo a mio avviso non deve fare assolutamente calare il margine dell'attenzione però ci deve dare il tempo di riflettere su un sistema che sia un sistema accurato e non sia fatto come dire in fretta e furia sull'onda di un'emergenza soprattutto è importante che ci siano due dimensioni a mio avviso una dimensione di carattere locale dove una serie di operatori ripeto dalla scuola dalla sanità dei comuni dai servizi sociali dai centri antiviolenza sulle donne adesso dirò perché segnalano una serie di situazioni le intercettino e ci si avvia poi con dei programmi con degli psicologi a mio avviso è importantissimo il ricorso e la collaborazione anche con le comunità di religione islamica con degli imam qualificati che possano portare e spiegare anche dove sta la deviazione e dove sta il falso messaggio e poi arrivare a un nucleo centrale dove a mio avviso il nucleo centrale che potrebbe in qualche maniera vedere un po' le strategie non dovrebbe però avere un gruppo così ampio di soggetti perché questo potrebbe anche portare delle difficoltà nella fluidità delle comunicazioni e nei provvedimenti che vengono presi perché vi ho parlato dei centri antiviolenza sulle donne perché noi siamo sempre stati abituati di intercettare delle comunicazioni magari di violenza dove ci stava non so problemi di alcol in famiglia dove ci stava problema di gelosia dove ci stava un dissidio familiare in alcuni casi è capitato invece che il problema nasceva da una persona che per qualche motivo si radicalizzava e pretendeva dalla propria compagna dei comportamenti assolutamente nuovi e assolutamente non in linea con la precedente la precedente vita perché vi parlo della scuola perché alcune significative indagini antiterrorismo sono nate dalla segnalazione delle scuole di bambini che fuggivano durante l'ora di musica perché era peccato e andando ad approfondire siamo arrivati a delle situazioni molto pericolose di radicalizzazione grande addirittura ricordo di temi di bambini molto piccoli che esprimevano il proprio disagio il proprio conflitto tra il rapporto di grande amicizia e fraternità che avevano con il proprio compagnetto però sul fatto che il proprio compagnetto aveva una religione diversa e quindi doveva essere in qualche maniera considerato un soggetto comunque avverso ecco quindi la necessità e l'importanza di fare questa attività di rete un'attività multistruttura che ripeto riguardi tante parti della tante parti della società civile e non solamente le forze di polizia debbo anche dire che un fenomeno che mi ha molto colpito e su cui ho incappato diverse volte in indagini è stato quello su altre forme di radicalizzazione che spesso hanno riguardato i ragazzi giovanissimi ragazzi giovanissimi ed è stata relativamente a propugnare delle idee di carattere negazionista di carattere nazista di carattere vi dico solo vi dico solo un delle chat che hanno portato a dei processi dove sono stati sono andati anche dei minori e questi parlavano della necessità di adoperarsi in qualche modo contro le adozioni contro le adozioni adozioni internazionali farneticando di possibili contaminazioni dalla razza farneticando di insomma con frasi veramente pesanti che sono agli atti di processi sul fatto che vengono adottate scimmie poi con una serie di riferimenti o addirittura dalle persone con disabilità definite disgustose tutto questo proprio perché andava ad attingere dei giovani molto piccoli che dobbiamo assolutamente tendere ad un'attività di recupero ad un'attività di ripresa di questi ragazzi che si trovano chiaramente a dire delle enormità e che spesso non hanno un cattivo maestro da loro conosciuto ma spesso vanno a rimandare a siti che stanno in altre nazioni a siti di suprematisti al Ku Klux Kahn attività di questo genere ecco questi ragazzi a mio avviso meritano un'attenzione ed è un fenomeno che è abbastanza diffuso ci sono indagini recenti per esempio che hanno riguardato ragazzi che si sono detti seguaci dei cosiddetti incel che trovano realtà cittadinanza in altre parti del mondo incel sono celibi involontari ragazzi che per una serie di motivi non riescono ad avere contatti con i propri ragazzi con il prossimo rimangono isolati hanno delle difficoltà di si sentono emarginati si sentono non accettati e abbiamo trovato chat siamo intervenuti di gente che pensava comunque o parlava di shooting quindi gli spari nelle scuole gli attacchi e questi sono fenomeni che in altre parti del mondo appartenenti a questi incel hanno fatto attentati sanguinosi noi finora non abbiamo avuto attentati di questo genere ma abbiamo avuto soggetti che si vantavano della possibilità di poter essere i primi magari è semplicemente fascinazione non è altro però seguire questi soggetti con percorsi psicologici e comunque togliere queste idee e deradicalizzarlo a mio avviso e anche questo di estrema utilità poi per quanto riguarda l'altro tema se potevo dire due parole per quello che riguarda la commissione la possibilità su questo se fosse possibile un attimo perché volevo fare alcuni scegni all'attività attuale se fosse possibile non rendere pubblica possiamo disattivare l'impianto sulla web tv andiamo un attimo un secondo per farlo tecnicamente grazie Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.